Ciao Marcello, un saluto a Delio e a tutti gli amici di Top Planet. La prima gara dei quarti di finale di Champions è andata. È andata come meglio, non poteva andare. 3-0 secco della Juventus, un risultato strameritato. Una partita perfetta da parte dei bianconeri. Dybala il migliore in campo con la sua straordinaria doppietta. Poi hanno giocato bene sicuramente anche Manzuki, Ciguain, che si sono sacrificati molto. Ma tutta la squadra ha giocato bene, da Buffon fino all'ultima riserva entrata in campo. Dobbiamo giocare in questo modo, mi avviso, anche nella partita di ritorno. Perché abbiamo messo in serie difficoltà il Barcellona con le nostre continue ripartenze. Barcellona che in difesa ho visto avere sicuramente molti problemi. Sarà sicuramente fortissimi in attacco, anche se ieri comunque sia Messi, Neymar e Suárez non hanno fatto la loro migliore prestazione. Ma in difesa sono molto vulnerabili. Quindi dobbiamo andare lì a Barcellona per cercare di segnare uno, due gol. Ci credevo sicuramente già nel momento dei sorteggi e dopo la partita di ieri ci credo ancora di più. Quindi andiamo a Barcellona per fare la nostra partita. Consapevole che abbiamo buone possibilità di passare il turno, ma dobbiamo giocare come se stessimo sullo 0-0. Avendo lo stesso approccio che abbiamo avuto ieri. Non fare lo stesso errore che ha commesso il Paris Saint-Germain negli ottavi di finale, quando è andato al Camp Nou, convinto di aver già passato il turno. Dobbiamo restare concentrati e fare la nostra partita aggressiva come l'abbiamo fatta ieri. Abbiamo molte possibilità di arrivare in semifinale. Che dire Marcello, io sono contentissimo per la partita di ieri. Alla prossima, ti saluto e sempre Forza Juve!